ben ritrovati voi tutti cari amici adesso ovviamente dopo la gioia incontenibile per brown stroman mi contengo un pochino anche perché è giusto così allora innanzitutto vi invito a vedere il video dedicato a stroman il suo titolo intercontinentale il video college sul calcio mercato che ho realizzato ieri che ho pensato bene di fare così anziché un video magari prolisso parlando delle trattative ma ora il vero motivo perché facciamo questo secondo ultimo video di oggi parliamo di serie b ieri anticipo show abbastanza rocambolesco tra cremonese e pisa che ha visto il pisa vince per 4 a 3 dopo una partita bellissima infatti nel primo tempo il punteggio era sul 2 a 1 per la cremonese con le reti per i padroni di casa di dele al terzo e di palombia al ventiquattresimo pisa trovava il momentaneo 2 a 1 al trentaseesimo con minesso nel secondo tempo nel giro di tre minuti il pisa ribalta con masucci e birindelli al cinquantottesimo si rimette in parità la situazione con piccola per la cremonese e il pisa troverà in uno dei suoi entrati in campo nel secondo tempo ovvero in pisano al settantacinquesimo l'uomo partite che segnerà appunto il gol partita scusate il gioco di parole al novantatresimo su astis di masucci come vedo qui diciamo affluenza lo stadio quasi 6500 spettatori al giovanni zini di cremona risultato un po sorpresa neanche diciamo abbastanza non calcolato anche perché la quota era molto buona si andava tra l'uno cioè scusate tra il 4 75 5 euro oltre la posta pisa che con questo successo sale all'undicesimo posto dopo tre pari di fila un dicesimo posto con 29 punti quindi in piena zona alla ricerca di un posto al sole per i playoff la cremonese si mangia le mani perché insomma è il credore il queen almeno qui vedo almeno il quinto risultato come si dice nì così e così infatti abbiamo nelle ultime cinque due sconfitte tre pari un diciassettesima posizione a quota 23 punti cremonese che sarà impegnata all'otto febbraio sul campo del crotone terzo al momento mentre il bisa ritornerà tra le mura amiche il 9 febbraio per affrontare il che altra diretta concorrente per la corsa playoff bene grazie a tutti allora domani arriverà sicuro il video sul milan arriverà il video non dimentichiamoci dedicato alla finalissima tra gioco vicio e dominic team in cui parleremo anche della finale femminile che si sta disputando ora che forse mi sa dovrebbe essere già terminata è già la finale femminile ve lo dico io ci ha dato emozione ma ne parleremo domani grazie a tutti buon sabato buon fine settimana ovviamente metterò su facebook tutti questi video nelle stories domani non perdetevi gli altri due video e poi lunedì si parlerà anche di inter visto che l'inter giocherà domani sera si domani sera a udina le 20 e 45 grazie a tutta la prossima ciao ciao